Polemiche sul Green Pass. Forse sarà necessario per entrare al ristorante. Sono in arrivo le convocazioni per le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e poi della cabina di regia con il Presidente del Consiglio Mario Draghi sulla spinosa questione del Green Pass che porterà al nuovo decreto anti-covid da varare in settimana con un lascia passare allargato e più stringente. Inutile creare confusione intorno al Green Pass. Gli allarmismi sono dannosi per i cittadini, il turismo e per tutta l'economia nel suo complesso. A dirlo è il Ministro del Turismo Massimo Garavagna e sottolinea il Green Pass ha senso solo per entrare in discoteca o allo stadio o per partecipare a grandi eventi che prevedono una grande affluenza di pubblico. Il Green Pass allargato, con il ciclo completo di vaccinazioni e non più una sola dose, dovrebbe entrare in vigore inizio agosto anche per evitare cambi di colore delle regioni e mantenere l'Italia bianca almeno fino a metà mese. Il certificato per immunizzati, guariti dal covid o tamponati negativi entro le 48 ore potrebbe essere obbligatorio anche per i ristoranti al chiuso, ma ci sarà battaglia. Scontato che venga richiesto per stadi, piscine, palestre, concerti e tutte le attività collettive. I nuovi parametri di rischio per le regioni e la proroga dello stato d'emergenza dovrebbero incontrare meno ostacoli, secondo le previsioni. I principali partner della maggioranza hanno visioni distanti su vaccini e utilizzi del certificato verde. In un panorama che vede i contagi e il tasso di positività crescere con la variante delta del coronavirus, anche se le terapie intensive e i reparti ordinari non preoccupano. Polemiche della Lega di Matteo Salvini, che nega di essere Novax, ricorda i genitori vaccinati, ma poi evoca il figlio 18enne. Mi rifiuto di vedere qualcuno che lo insegue con un tampone o una siringa. Prudenti sì, terrorizzati no. E sul Green Pass dice leggevo di multe i 400 euro se uno deve farlo per andare a prendere il caffè in piazza. Intanto ne sbarcano a carrettate in Sicilia senza, parlando dei migranti. Intanto la pandemia domenica fa segnare un altro giorno oltre i 3200 casi, con un tasso di positività che a fronte dell'usuale crollo di testa del sabato sale fino all'1,9%. I pazienti in terapia intensiva però dopo tre giorni di aumento tornano a calare e quelli nei reparti ordinari salgono di 25, non un dato impressionante. Le vittime sono solo tre, ai livelli tra i più bassi dell'anno. Un focolaio da Euro 2020 si segnala a Firenze, con tre persone positive e nove in quarantena, a seguito della finale Italia-Inghilterra davanti a un maxischermo di un locale all'aperto. Quello di Roma nel pub di Monteverde per la sfida di Ghiazzurri con il Belgio, ai quarti e al momento il più grande d'Italia, con oltre 90 casi. In Francia invece un gruppo di 70 mestri di sci del Friuli Venezia Giulia è rimasto bloccato per diverse positività durante un corso.